Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Anita Stories, in questo video vi faccio vedere lo slime più bello che abbia mai fatto, uno slime gigante, fluffy, è fantastico ed è quello che mi è piaciuto di più finora tra quelli che ho mai fatto. Prima di tutto questo video è in collaborazione con Daniel Wellington e ho un giveaway fantastico per voi che sta qua dentro, vi faccio prima vedere questo bellissimo orologio che mi hanno mandato, fa parte della collezione New Classic Petit Collection e per qualsiasi acquisto che volete fare sul sito Daniel Wellington avete il 15% di sconto se inserite il codice ANITA STORIES, tutto attaccato, ANITA STORIES e avete appunto il 15% di sconto. Io ho scelto il Classic Petit in Rose Gold e sono rimasta super contenta perché è davvero bellissimo, è rifinito benissimo e come potete vedere appunto è curato nei minimi dettagli ed è super super elegante, è davvero bellissimo, il colore tra l'altro mi piace tantissimo. Tra l'altro con questo colore si abbina a qualsiasi colore, quindi in qualsiasi modo vi vestiate questo colore è perfetto, è davvero bellissimo, mi piace tantissimo. Ve lo faccio anche vedere indossato così vedete com'è, poi qua vedete appunto dall'unboxing come è fatta anche la scatola e il resto. E come vi dicevo c'è anche un giveaway per voi perché ci tenevo troppo a fare una sorpresa per voi direttamente. Quindi questo è quando lo togliete dalla scatola appunto, vedete anche dietro è super rifinito con il logo. Anche se è una collaborazione le mie opinioni sono mie, sincere al 100%. E vi faccio vedere anche, c'è appunto il libretto per la manutenzione dell'orologio. Ed eccolo qua indossato. E anche io ho un polso molto molto piccolo, quindi in genere gli orologi non mi stanno molto bene. Però questo ha appunto la cinghietta regolabile, quindi potete regolarlo se avete un polso piccolo, se l'avete più grande. Passiamo ora alla sorpresa per voi, come ho detto ci tenevo troppo a fare una sorpresa per voi. E vi faccio subito vedere. Questo è per voi appunto, è un giveaway per voi. Ed è un bracciale rose gold, secondo me bellissimo, della Daniel Wellington appunto, ovviamente. Ed eccolo qua, ve lo faccio vedere bene. Ha appunto il logo e ha la sua scatolina. Sì, tra l'altro mi piace proprio che siano così curati nei dettagli. La scatolina è super carina, è fatto davvero bene. È un ottimo regalo anche. Questo è il librettino che sta appunto all'interno della scatolina col bracciale. Vedete che fa vedere che si abbina perfettamente all'orologio, il classic PT, rose gold. Quindi mi raccomando, se vi piace questo orologio fantastico, potete acquistarlo con il 15% di sconto con il codice ANITASTORIES. Oppure se volete anche solo acquistare il bracciale. E poi hanno anche tantissimi altri modelli di orologi e bracciali. Sono davvero bellissimi e curatissimi. Potete usare il codice ANITASTORIES del 15%. Per il giveaway seguitemi su Instagram e fra poco pubblicherò appunto il regolamento per partecipare e vincere questo bracciale bellissimo. Ma ora passiamo subito al fluffy slime gigante. Come vi dicevo prima, è lo slime più bello che mi sia mai riuscito e sono super contenta. Sono tanto curiosa di sapere cosa ne penserete voi. Se è anche secondo voi il più bello che abbia mai fatto, oppure se non vi piace, oppure se preferite un altro dei miei slime che ho fatto. Insomma, sarò curiosa di vedere nei vostri commenti. Comunque, poi quando vado a crearlo alla fine del video ci saranno tantissimi suoni ASMR. Quindi vi rilasserà un sacco alla fine di questo video. Ma nel frattempo ho lasciato i suoni in questo video in modo che vi potete rilassare un po'. E parlerò in modo un po' più calmo e tranquillo. Allora, come avete visto ho messo la colla, dopodiché ho messo della schiena da barba e poi ho messo della lozione per corpo. Più schiena da barba e più lozione per corpo mettete, più diventerà bello ciccioso e più rumorini farà quando andate a schiacciarlo. Quindi abbondate pure se volete. Ed ecco qua. Scrivetemi nei commenti se vi ricordate del sapone di Peppa Pig. Questo è il mitico sapone di Peppa Pig e mi piace un sacco lo stesso peccato. Guardate un po'. E continua a crescere, è fichissimo. Se non lo avete potete usare qualsiasi shampoo schiumoso. Ed ecco che ripartiamo con il colorante. Ho deciso di fare questo viola. E scrivetemi nei commenti se secondo voi anche questa volta mi macchierò le mani come in tutti gli slime in cui uso questi coloranti. Oppure no, scrivetemi e vediamo chi indovina. Mi piace un sacco questo colore, però voglio sapere anche a voi come piacciono gli slime, di che colori vi piacciono di più. Quindi ditemi nei commenti di che colore volete che faccia il prossimo slime. Aggiungo il bicarbonato di sodio e la soluzione per lenti. Vi posso mettere la sigla, tutto quello che succede per cornice. Allora, ok? Quindi sostendieni. E un bel analogo? Se vedete che ancora non si stacca del tutto, continuate pian piano ad aggiungere bicarbonato e soluzione per lenti, o qualsiasi sia la cosa che stiamo utilizzando per farlo solidificare. Però aggiungetene sempre poco alla volta, perché se ne aggiungete troppo tutto assieme potrebbe indurirsi. Alla prossima 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 Alla prossima